e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi sono qua per fare un po di boxing visto che ho fatto un po di ordini su amazon in vista dell'amazon prime nei due giorni di amazon prime visto che mi servivano alcune cose alcune non c'entrano neanche con con la moto con con il mondo delle moto però magari vi interessano allora partiamo col primo che è fuori da da quello che è il mondo delle moto ma mi serviva una giacca invernale e ho trovato ho trovato un bello sconto in questo store che non so se comunque marche amazon ma comunque helianse una giacca della helianse è ben imbottita invernale comunque giacca abbastanza bella vediamo se la taglia è giusta taglia giusta non è pesantissima però si sta un campuccio semi impermeabile per questa stagione fredda ma per questo stagione che comunque non è freddo ancora tanto freddo per andare in giro una giacca casual diciamo sportiva ma benissimo dentro è abbastanza imbottita una buona giacca ma passiamo a quello che può interessare a a noi moto viaggiatori questo dovrebbe essere uno zaino pieghevole infatti è proprio questo vedete si presenta in questa borsettina che comunque fa fa parte dello zaino borsettina molto piccolina e questo penso che per noi motociclisti che andiamo in giro metti caso che ci serve uno zaino dove riporre magari le cose che abbiamo sulla moto avere uno zaino pieghevole di piccole dimensioni vedete questa la taschina qua diventa un'altra tasca dello zaino e vola diventa proprio uno zaino bello zaino e dovrebbe essere 20 litri se non erro 30 anzi 35 litri di zaino deve essere molto capiente lo zaino vedete un bel po di tasche anche all'interno tasche all'esterno un bello zainetto da poter usare c'è le tasche dove poter mettere l'acqua vari vari ombrello tutte quelle cose qua penso che per uno che viaggia in moto avere uno zainetto di questo tipo che si può poi che poi si può andare a piegare in questa maniera qua ok tac 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 si va a ripiegare molto semplice anche da chiudere si va a ripiegare e si inserisce dentro il sacchettino vedete è molto semplice anche da piegare ed è molto molto davvero compatto e piccolo quindi prodotto secondo me consigliato ho preso comunque durante anche questo durante l'amazon prime molto comodo in più ho preso un altro paio di cose che comunque mi servivano ok allora questo lo facciamo dopo lo apriamo dopo allora questo è un detergente rimuovi insetti penso che della glart è una marca che comunque tratta direttamente amazon è una marca che vende amazon ha davvero tanti prodotti c'è tanti stracci c'è tanti panni microfibra altri detergenti sia per moto che per auto e ho voluto provare appunto questo rimuovi insetti o comunque quello che rimane degli insetti penso sia molto utili penso sia molto utile andrò a testarlo magari farò un breve test quando laverò la moto prodotto interessante vedremo se funziona in più ho preso questa cosa qua della new year in pratica durante il viaggio l'ultimo viaggio mi si è rotta la basetta diciamo dell'attacco dell'action cam e quindi sono ho voluto prendere degli attacchi e visto che erano in offerta e costava meno prendere questa cosa qua ovvero tutta questa valigetta che mi è costata meno di 15 euro vi lascerò comunque il link in descrizione non costa comunque tantissimo dovrebbe costare attorno ai 20 euro quando non è in promo però questa valigetta qua contiene davvero una miriade di accessori e attacchi per action cam e gopro quindi qua c'è ci sono vari attacchi altri attacchi tra cui quelli che servono che serviranno anche a me sono arrivati addirittura due mi costavano 20 euro prenderli qua c'è un attacco a ventosa poi un altro attacco un'altra basetta tantissimi attacchi quello da polso quello da mettere in testa dovrebbe esserci questi qua sono le basette da attaccare con gli adesivi dovrebbe essere questo qua quello da mettere al petto l'attacco del petto davvero tantissimi tantissimi altri attacchi questa qua dovrebbe essere la fascia della testa poi questo piccolo treppiede che vabbè qualità lascia sicuramente non è però anche un bellino un bel treppiede questo qua il galleggiante il galleggiante appunto dove mettere la gopro e poi resta a galla e in più c'è tutta tutta questa valigetta e anche anche non è finita qua c'è anche il selfie stick guardate tutto ad un prezzo davvero c'è che dici porco cane come fanno a starci dentro poi vabbè altri altri attacchi altre cose davvero una miriade di cose comunque vi lascerò di tutte queste cose c'è il link in descrizione comunque New Year qua questa questa vita qua è famosa per questi prodotti quindi davvero davvero tantissima roba a un prezzo davvero più c'è sacchettino anche per poter mettere cose e portarle in giro senza portare in giro la borsa una borsa che potrebbe servire anche da mettere appunto l'action cam e portarla in giro con la borsetta quindi niente ragazzi con questo qua ve lo consiglio davvero se avete una gopro se avete una una qualsiasi action cam visto che comunque sono queste cose qua sono compatibili con quasi tutte le action cam visto che tutte usano l'attacco diciamo gopro quindi consigliato dato il prezzo davvero basso e la qualità comunque gli attacchi sono attacchi davvero normali cioè gli attacchi che trovate benissimo da altre parti quindi c'è solo questo sacchettino qua di solito se andate non so un negozio una media world lo pagate 15 euro davvero davvero conveniente quindi ragazzi tutto il link in descrizione vi ricordo anche se non volete perdere magari alcune offerte tipo nel prime day di iscrivervi al canale telegram visto che anche durante il prime day queste cose qua le ho postate visto che erano in offerta le ho prese appunto perché erano in offerta niente quindi per non perdervi le offerte dal mondo motociclistico iscrivetevi al canale e anche al canale youtube e niente ragazzi io vi ringrazio ancora di seguire questi video sono video che usciranno penso nel mentre stanno andando stava andando avanti la programmazione del giro d'italia e niente io vi ringrazio ancora vi ricordo di lasciare anche un like e ciao ciao ciao